Ristretto italiano, i media internazionali scrivono di noi. Sono Ruggero Po, buongiorno a tutti, è venerdì e anche oggi venerdì 28 aprile e anche oggi sono tantissime le notizie che ci riguardano. Continuano da tutto il mondo le risatine, le polemiche su quella che è la nostra campagna turistica prodotta dall'Armando Testa per il Ministero del Turismo, però prima voglio cominciare con la notizia politica. La notizia politica riguarda l'incontro dell'altro ieri a Roma organizzato dal governo Meloni con 600 imprese italiane interessate a partecipare agli appalti per la ricostruzione dell'Ucraina. Sono appalti che sono stati stimati dalla Banca Mondiale, dalle Nazioni Unite e dall'Unione Europea per 411 milioni di euro. Quindi, insomma, affari veri. E l'incontro a porte chiuse è stato tra queste centinaia di imprese italiane con 150 imprenditori ucraini. E il correo dalla Spagna titola L'Italia prende posizione per la ricostruzione dell'Ucraina. Ne scrive Euronews, scrivendo, titolando, Zelensky afferma che la strategia difensiva dell'Ucraina è un successo e getterà le basi della sicurezza globale in futuro. Euronews, che vi ricordo è un giornale paneuropeo con redazione a Parigi, scrive, non è il primo convegno in Europa sulla ricostruzione dell'Ucraina, ma senza dubbio l'incontro di mercoledì a Roma è servito a rafforzare la posizione dell'Italia, non solo a livello internazionale, ma soprattutto a livello europeo. Più acido dalla Francia, sempre da Parigi, l'éseco che scrive l'Italia non vuole lasciare ai partner europei la ricostruzione dell'Ucraina. Il conflitto è ancora aperto, scrive l'éseco, ma l'Italia corre avanti, scommettendo concretamente sulla fine della guerra a favore di Kiev. Poi cita il ministro degli esteri, Tajani, che dice non possiamo abbandonare la ricostruzione a francesi, tedeschi, inglesi e americani, e ci mancherebbe. Presto anche Kiev entrerà in Europa e nel mercato comune europeo. Intanto Roma garantisce, anche politicamente ed economicamente, affermando il nostro appoggio all'Ucraina non sarà solo militare e diplomatico, ma anche economico. E cominceremo con un contributo iniziale di 100 milioni di euro al fondo UE per l'Ucraina. L'Italia, quindi, scrive e conclude l'éseco, spera quindi di organizzare a breve una conferenza internazionale sulla ricostruzione del paese martoriato dalla guerra, cosa che potrebbe accadere già durante la nostra prossima presidenza del G7, che sarà nel 2024. Chiuso l'argomento ricostruzione, torniamo all'argomento open to meraviglia. Artnet News, prendo questo oggi, Artnet News è un bollettino dei critici d'arte, è un giornale, una testata inglese, che si rivolge soprattutto ai mercanti d'arte. Il titolo è Critici d'arte e funzionari governativi criticano la campagna turistica italiana, definita umiliante, che trasforma la venere di Botticelli in una influencer. E cita questo articolo alcuni commenti appunto dai critici italiani, cominciando con Sgarbi, che, oltre che uno dei più famosi critici del nostro paese, è anche impegnato al Ministero della Cultura. Sgarbi, il quale dice non vorrei criticare troppo i miei colleghi, ma open to meraviglia, che nome è, che lingua è, che sigla è. E poi citano Libia Garomersini, storica d'arte, che definisce questa campagna un miscuglio di luoghi comuni. L'arte dov'è, dice la Garomersini, la campagna, afferma, banalizza la nostra eredità nel modo più volgare. No comment dagli uffizi, che potremmo definire i proprietari del capolavoro di Botticelli, dove la nascita di Venere è esposta, e il sindaco di Firenze, Dario Nardella, dice, proprio adesso, che stiamo combattendo contro lo sfruttamento commerciale che mette in ridicolo i nostri gioielli articolo, come i grembiuli da cucina, per dire, con le parti intime del David, o altre riproduzioni grottesche, eccoci qua, con questa campagna. Poi cita, ma questo ve lo risparmio, perché già ne parlavamo ieri, cita l'articolo di Art News, lo scivolone sui nomi tedeschi, i nomi delle città italiane tradotte dall'italiano al tedesco, e anche il famoso video sloveno. Continuiamo andando nel mondo della gastronomia, insomma, del mangiare bene, della pasta asciutta, perché Forbes, la notissima rivista internazionale americana, scrive Italy, nel senso di Eataly, cioè l'azienda di ristorazione italiana, Italy porterà un assaggio dell'autenticità italiana nelle città degli Stati Uniti. Non tutti i turisti americani che vengono in Italia, solo informati su dove mangiare meglio, e spesso mangiano porcherie, non tutti gli americani possono comunque permettersi un viaggio in Italia. Ecco che quindi, che Italy, che è già presente in Italia con 40 store, ne ha in altri 12 paesi del mondo, che negli Stati Uniti ne ha New York, Chicago, Boston, Los Angeles, Dallas, Silicon Valley, organizza un 6 mesi di cucina italiana negli Stati Uniti. Regina delle celebrazioni da maggio a novembre sarà la pasta, e si tratta di eventi che spaziano dalle apparizioni di chef stellati, come Stefano Secchi del Resdora di New York, ai corsi di pasta per il pubblico. Ci sarà il piatto del mese, vi indico solo questo, quindi cacio e pepe a giugno, paccheri ai tre pomodori a luglio, linguine allo scoglio in agosto, tagliatelle alla bolognese in settembre, lasagne mediane in ottobre, e a novembre si finisce con i rigatori alla carbonara. Quindi, se andiamo negli Stati Uniti e ci viene un po' di nostalgia sappiamo, con un po' di soldi in tasca, dove trovare un buon piatto di pasta. Resto sul fronte del turismo. The Telegraph da Londra titola L'ultima grande città sconosciuta d'Italia. E in effetti quella che recensisce è una delle città d'arte di cui si parla meno. Ed è un peccato. Si tratta di Mantova non ancora turbata dalla folla fuori dai sentieri più battuti. Ricorda The Telegraph che Mantova è patrimonio dell'umanità. Fu dominata dai Gonzaga dai 1328 al 1707 che ebbero occasione, attirando pittori, scultori e architetti, di arricchirla enormemente di opere d'arte. Meraviglie del Rinascimento dagli affreschi del Mantegna al Palazzo Ducale a Palazzo Tepo in Sant'Andrea che è una delle prime grandi chiese rinascimentali d'Italia. È circondata, ricorda The Telegraph, da tre laghi che la rendono unica e da visitare in barca. E cominciando dal lago superiore il consiglio è quello di arrivare fino alla Chiesa delle Grazie e poi di non perdere il tramonto sull'acqua. Concludiamo col turismo con una rivista di turismo spagnola, Viajar, che titola 15 curiosità dell'Italia che forse non conoscevate. Io le sapevo tutte, vediamo se le sapevate voi. Allora, l'Italia contiene lo stato sovrano più piccolo al mondo. Qual è? Quattro vulcani attivi. Quali sono? Poi cita la forma stivale, ma questa la conosciamo. Poi tra le altre curiosità nostre, in Italia abbiamo un ghiacciaio che sciogliendosi ha cambiato i confini e il Teuledo al confine con la Svizzera e i confini sono segnati da un ghiacciaio che si scioglie e si sposta. Quindi c'è un rifugio alpino che naturalmente senza muoversi però ha dovuto cambiare bandiera. Era in Italia, oggi è in Svizzera. Poi tra le altre curiosità Roma non è sempre stata la capitale, questa immagino la sapeste. C'è Viganella, un piccolo borgo in Piemonte che ha un sole artificiale. Infatti nel periodo invernale è illuminato solo ed esclusivamente da un sistema di specchi che sono stati costruiti nel 2006 perché altrimenti i raggi del sole per sei mesi non arrivano giù nella piazza del paesino. Poi abbiamo il maggior numero di siti patrimonio dell'umanità se non sapete quanti ve lo dico io sono 58 e l'ultimo arrivato è stato Monte Catini Terme. Poi abbiamo la Torre di Pisa grandissima curiosità e poi un'altra cosa che ormai la sappiamo tutti ma che forse qualcuno ancora non sa è che in Italia abbiamo la prima la più antica la prima università d'Europa ed è quella di Bologna chiudo qui vi aspetto domani per l'ultimo ristretto italiano della settimana buona giornata a tutti ristretto italiano di Ruggero Po di Ruggero Po